Bella a tutti ragazzi, io sono AFK e benvenuti nel quarto episodio di Deadly Orbit. Oggi, intanto come vedete ho fatto un po' di carote, ho formato un po' di carote da mangiare. Oggi torneremo dove eravamo la scorsa volta e avevamo lasciato indietro un po' di casse. Poi ci sono tante cose da vedere, tipo qua sotto, però intanto ritorniamo di là. E dobbiamo, ve lo ricordate, in quel corridoio in cui ho corso scappando dai mob per arrivare alla stanzetta dove ho trovato le carote e tutto il resto. Quindi c'erano almeno quattro casse, forse ne ho perso anche di vista qualcuna. Il problema è che questi mob mi sembra di aver visto che cadono dall'alto. Quindi bisogna anche, e anche in modo di achievement, riparare le brecce della spazionistrazione internazionale. Allora, c'è un creeper qua, che però non dovrebbe essere un grosso problema da far fuori. Anche questo zombie. Ammazzo questo zombie e li butto dentro. Ok. Vedete queste brecce? Ed esattamente da qua che cadono, che cadono i mob, quindi. Tappiamo qua. Intanto mettiamo un po' di torce. Non si sa mai. Mettiamo un po' di torce. E anche qua saltando. Qua saltare non riesco, mi sa, è troppo in alto. Quindi facciamo così. Facciamo così. Mettiamo la torcia qua. E andiamo giù. Facciamo la stessa cosa qua. E dovremmo aver chiuso tutto, non vedo più brecce. Quindi dovremmo essere al sicuro. Mettendo qualche torcia, non dovremmo avere problemi di nessun tipo. Magari mettiamo una qua, una qua. Una qua e una qua. Allora, diamo una alla volta. Una mela d'oro. Iniziamo già alla grande. Qua non ce n'è e qua non ce n'è. Quindi ce n'è un'altra qua. Devo spaccare qua però. E troviamo del melone. Il melone si poteva scambiare con i villager. E un'altra bottiglia d'acqua. Anche questa si poteva scambiare con i villager. Quindi questo, questa stanza l'abbiamo fatta. Possiamo andare a vedere cosa poteva scambiare che non mi ricordo. Allora, per della lana mi servirà dopo. Io queste uova me le prenderei. Avevo già tre uova, le ho rotte. Purtroppo non mi ha dato, non mi ha droppato nessun, scusate, non mi ha droppato nessun, nessun pollo. Quindi spero che con queste otto uova mi droppi qualche pollo per farmi una piccola farm. Così avremo anche del cibo. No, non era qua. C'era un buco in cui volevo provare ad andare. Però se vado di là, cado sicuramente sotto. Forse era questo. Vediamo. Se ne avevo premuto shift. No, non ce l'avevo premuto. Che rischio. Perché qua le scale sono a metà. Se io provassi a spaccare invece così Così passa da fuori, quindi non mi sembra il caso. Se invece io spacco di qua, posso continuare a scendere. Io mi butto sotto. Vedo cosa c'è. Non ci credo. Ho perso tutto. Non ci credo. Ho fatto una cagata impressionante. Avevo una mela d'oro. Eh, perché ormai la roba lì non la riprendo più. Come faccio a riprenderla? Lo sapevo che non era ancora pronto per andarci. Ho dovuto fare il figo. E l'ho pagato in questo modo. Avevo il melone. Più che altro è la mela d'oro. Che, vabbè, abbiamo la mela. Potremmo anche rifarci se andiamo nel nether. Però ci mettiamo veramente una quantità di tempo industriale. Allora, qua vorrei cambiare tattica. Io direi che possiamo andar giù. Tanto non diventare e non abbiamo niente. Potrei lasciare questo qua. Ecco, non sapevo. Vabbè, ormai ce l'abbiamo. Vorrei solo andare giù e vedere cosa c'è. Ok, tre uova. Abbiamo recuperato un po' di cose. Abbiamo anche le torce che possiamo piazzare subito. Almeno non spawna più nessuno. Intanto chiudiamo qua. Perfetto. Ok. Abbiamo della zuppa di funghi. Una name tag. Dei fogli di carta. E qua niente. Ok, qua vorrei vedere. Un secondo. Cosa c'è? Non riesco a capire. Ok, facciamo così. Ormai qua siamo dentro. Quindi io direi di lasciare questo qua. Lasciamo più cose possibili qua. Così almeno se perdiamo qualcosa. Intanto devo mangiare un secondo. Se perdiamo qualcosa. Cioè se moriamo non perdiamo niente. Possiamo tornare qua. Tanto la malazione è sicura. Da dieci torce ce le portiamo. Proviamo a piazzare a caso ovunque ci sia. Quindi. Mangiamo un secondo. Ruopriamo un minimo di vita. Là c'è ancora una spada. Ci buttiamo e vediamo cosa succede. E' il danno da caduta. Che mi frena. Magari cadendo di qua. Provando a cadere di meno. Lo proviamo col quarzo. Se io continuassi a fare così. Tipo di qua. No, che facciamo così. Perché se il muro continua anche di qua. E' una cosa abbastanza fattibile. No, dobbiamo cadere. Prendere la spada e ammazzare questi bastardi. Ecco qua. Ci siamo. Magari piazzo anche qualche altra torcia per sicurezza. Tipo qua. Qua ci troviamo di fronte a due porte. Una a sfondo verde. L'altra a sfondo grigio. Aia. Questa è uno zombie villager. Qua c'è della terra. Troviamo del melone. Dello sugar cane. Sicuramente questa terra non la posso anche prendere. Mi servirà. Ok. Allora, intanto. Dobbiamo crearci una scaletta che ci porti su. E poi vorrei. Provare a trasformare quello zombie. A farlo ridiventare un villager. Non so se è possibile. Cioè, non so se è possibile. Non lo ingenereremo su questa mappa. Ok. Qua ho. Allora, me la d'ora ce l'ho qua. Questo lo lasciamo qua. Lo rimettiamo a posto l'inventario. Ok, ragazzi. Ho, per sbaglio, sprecato la pozione. Con la quale volevo provare di curare lo zombie villager. Quindi ormai niente. Qua trovo dell'armatura, invece. Armatura di perle, quindi. Diciamo che non è un gran che. Però, intanto, un po' di armatura ce l'abbiamo, finalmente. Vedete, abbiamo preso tre scudi e mezzo, quindi. E questa è la navicella che ci porterà via. Allora, qua vedo tanto ferro. Quindi io direi che la stazione spaziale internazionale l'abbiamo fatta tutta. Non c'è... Penso non ci sia nel tratto da vedere. Credo almeno. No, ci sono un altro paio di bocchilata, quindi scherzavo. Però diciamo che siamo a buon punto, quindi. Io adesso prenderei questo. Andrei a rimettere là. E per oggi direi che può bastare. Prendiamo tutto. Cerchiamo di far crescere dei polli, magari. Rompendo queste uova. Magari facendomi una forza di polli. Perché il grano ce lo dovrei avere. Ma i semini... I semini non so se ce li ho... Per catturare i polli. Per catturare, diciamo, per... Sì, catturare i polli. Quindi. Torniamo immediatamente indietro. Così. Beh, non proprio così. Ma potrebbero dropparmi qualcosa. Bene. Adesso torniamo di qua. Poi vorrei andar giù nel prossimo episodio. Quindi... In quella botola lì. Anche se c'è il vuoto. Ci sono un marcello di mob. Quindi. Lascerai tutto qui. Prima però voglio far... Voglio vedere se... Viene fuori qualche pollo da... Dalle uova. Spero di sì, anche perché sono 11. Almeno un paio per farne accoppiare. Ce li dovremmo avere. Quindi. Lasciamo questo. Tutto questo qua. Mi faccio un nuovo... Me la faccio dopo, dai. Niente. 11 uova. Zero polli. Dopo questa brutta notizia direi che... Per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella. Noi ci vediamo al prossimo episodio. più